De Quina ha onorato Camilla con un nuovo titolo, potrebbe essere questa l'indicazione più forte fino ad oggi che diventerà regina in futuro? I segni che Camilla, duchessa di Cornovaglia, potrebbe essere nominata regina sono diventati più forti, poiché la regina ha onorato suonora con un nuovo titolo. Nell'elenco degli onori del nuovo anno della regina, Camilla è stata nominata Royal Lady dell'Ordine della Giarrettiera. Ora Express.co. UK esplora cosa potrebbe significare questo nuovo titolo per Camilla. Il 31 dicembre, Buckingham Palace annunciò che Camilla sarebbe diventata una Royal Lady dell'Ordine della Giarrettiera. La Royal Lady of the Order of the Garter è l'ordine cavalleresco più anziano nel sistema di onorificenze britanniche. I cavalieri reali e le dame dell'Ordine della Giarrettiera sono titoli dati dalla regina, non da Downing Street. Questo recente onore, quindi, dimostra con forza il segno personale della regina di approvazione di Camilla.Se vuoi iscrivere a Camilla ora dovrai mettere LG, dama compagna dell'Ordine della Giarrettiera, dopo il suo nome. Il commentatore reale Robert Hardman ha affermato che il fatto che la regina abbia conferito questo titolo a Camilla è il più grande riconoscimento fino ad oggi del ruolo che l'ex Camilla Parker Bowles ora svolge nella vita della monarchia. Camilla ha servito diligentemente la famiglia reale dal suo matrimonio con il principe Carlo nel 2005.È diventata una figura centrale nella famiglia reale, intraprendendo centinaia di doveri reali. L'Ordine della Giarrettiera è un prestigioso onore, fondato nel 1348 da Edoardo III. Questo è un onore altamente esclusivo in quanto il numero di compagni è limitato a soli 24. I cavalieri e le dame della Giarrettiera sono selezionati personalmente dalla regina per onorare il loro contributo alla vita nazionale o per il loro servizio personale al monarca.Il principe William, il principe Carlo e Sir Winston Churchill sono tra coloro a cui è stato conferito questo onore, indicando quanto sia significativo il titolo. Il signor Hardman ha scritto sul mail online, la regina sta facendo una dichiarazione chiara. È rimasta profondamente colpita dal modo bonario in cui la duchessa ha sostenuto il principe di Gales mentre si assumeva più doveri per conto della regina.